Le aree offroche per vedere, dovunque si rivolgono a noi, non vogliono, non mutare, si rivolgono a me, si rivolgono a me, si rivolgono a me, si rivolgono a me, si rivolgono a me. Il sacrificio che si offre alla Santa Messa per il riccardo del mondo e i miei personali. La parola che devo dire, il cammino che devo seguire, la luce che devo accendere, la vita che deve vivere, l'amore che deve essere amato, la gioia che abbiamo condita a condividere, il sacrificio che dobbiamo offrire, la pace che dobbiamo seminare, il pane di vita che dobbiamo mangiare, l'affamato che dobbiamo sfamare, l'assetato che dobbiamo dissetare, il nudo che dobbiamo vestire, il sensabetto al quale dobbiamo offrire i pari, il solitario al quale dobbiamo far compagnia, l'inatteso che dobbiamo scogliere, il lebroso dei cui ferite dobbiamo lavare, ma anche i venditati che dobbiamo supponere, l'arcolizzato che dobbiamo ascoltare, il risale che dobbiamo aiutare, il donato che dobbiamo accogliere, il cieco che dobbiamo guidare, il nudo al quale dobbiamo prestare la nostra voce, lo storpio che dobbiamo aiutare a camminare, la prostituta che dobbiamo allontanare dal pericolo e colmare della nostra amicizia, il detenuto che dobbiamo aiutare,